Musica Buongiorno amici, oggi Gallup vi porta nel futuro e vi invita all'ascolto di Gallup, che scoop! O meglio, Gallup, che festival! Con me naturalmente c'è questo splendido essere umano bipede femminile che risponde al nome di... Giulia Giulia, ha cambiato nome rispetto a ieri? No Bene, Giulia, vuoi salutare il pubblico nella tua lingua? Ciao Gallup Vuoi salutarlo nella mia? Sempre, ciao Ehi, ma vedo sulla scalinata del casino due ragazzini, andiamo a prenderli, vieni Giulia Avete voglia di mangiarvi un bel cioccolatino Gallup? Sì Bene, allora dovete rispondere ad una di queste domande, anzi, a questa domanda Attenzione Non si vede proprio il viso così Ma è meglio così, non si preoccupa Meglio così Sì, sì, allora stia attenta, nel 1986, capisce questa parola? 1986? Sì Per la prima volta il festival viene condotto da una donna Di chi si tratta? A. Raffaella Carrà B. Loretta Goggi C. Cristiano Malgioglio La prima? La prima, Raffaella Carrà Mi dispiace, ha sbagliato, riprovi Rimane Loretta Goggi o Cristiano Malgioglio? Loretta Goggi Loretta Goggi Galup, che festival, complimenti, si è preso il suo bel cioccolatino Galup Brava, grazie Lei non se lo meritava, però fa lo stesso Eh, vabbè, grazie, lo ringrazio lo stesso Salutiamo Galup Grazie, arrivederci Grazie Galup Cari amici di Galup, che festival abbiamo trovato una bella coppietta di Ottuagenari Voi siete di qui? No, di Borgosesia Di Borgosesia Bene, non è che importa moltissimo Ora io le faccio una domanda Le ambirebbe gustare? No, deve prenderlo dopo, eh Solo se rispondo esattamente Il cioccolatino offerto dalla nostra? Giulia Giulia, si chiama sempre Oggi hai deciso che ti chiamerai per tutta la puntata Giulia Bene, Galup, che festival, attenzione La domanda è la seguente Chi ha vinto il festival nel 1954? Le do tre possibilità A. Carlos Bacca B. Gino Latilla C. David Zuckerberg Gino Latilla Gino Latilla, come ha fatto? Lei è veramente un grandissimo intenditore Complimenti Mi ricordavo per quello Galup, che scoop e Galup, che festival Ecco, portate a casa tutto questo ben di Dio della Galup Grazie, volete dire tutti due insieme Galup, che festival? Galup, che festival Hanno indovinato Amici di Galup, che festival Siamo sempre qui sulla promenada di Sanremo E abbiamo trovato questo straordinario gruppo musicale Accanto alla nostra? Giulia Giulia, sempre Giulia ha deciso che si chiamerà Giulia Ora vi faccio una domanda Se rispondete esattamente a questa domanda Potrete vincere un cioccolatino Galup Attenzione Nel 1990 Per la prima volta Il festival di Sanremo Non si svolge al Teatro Ariston Perché era chiuso per lavori Ma dove si è svolto? A. A casa di Carlo Conti B. Al Palafiori C. In una cabina del telefono E... in una... al Palafiori Al Palafiori! Galup, che festival! Non so come abbiate fatto a indovinare Sì, prendete pure i cioccolatini Grazie Noto che avete tutti gli strumenti Manca la batteria Perché la batteria è a terra purtroppo Esatto Ah no, la batteria è carica Bene Buona musicata Arrivederci Galup, Galup, Galup Che festival! Giulia Ci sono Nesli e Alice Vieni, vieni Salve Volete un cioccolatino Galup? Gli unici che non gustano i nostri cioccolatini Sono i manichini Dai, tutti insieme Galup, che festival! Andiamo, andiamo A Galup, che festival abbiamo trovato questi due splendidi ragazzini Allora vi faccio una domanda Volete mangiare il nostro cioccolatino Galup? Perché no? Volentieri No, o sì o no? La domanda è sì o no? Sì, grazie Sì, bene Avete indovinato Complimenti No, scherzavo Non è così facile La domanda è la seguente Mi segue? Ci provo Ecco, è la seguente Quindi mi deve seguire Attenzione Allora, con quale canzone? I giallis Capisce la parola canzone? Ce la posso fare Allora, con quale canzone i giallis vinsero il festival nel 1977? A, fiumi d'inchiostro B, fiumi di parole C, fiumi... No, sto cercando di smettere B, fiumi di parole Galup, che festival! Incredibile! Lei ha una cultura musicale veramente straordinaria Spropositata Ecco, prendete il vostro Galup e mangiatelo alla salute del signor Galup in persona Arrivederci Galup, che festival! Abbiamo trovato queste tre cime di Lavaredo Guardate che belle che sono Abbiamo una domanda per voi Se rispondete esattamente potete gustarvi un cioccolatino della Galup Oh yeah! Oh yeah! Risposta esatta! Allora, la domanda è la seguente Quanti festival di Sanremo ha vinto Anna Oxa? A, 2, B C, i multipli di 2 C, 1, nessuno, 100.000 2 2 Galup, che festival! Grazie! Vi meritate i nostri super cioccolatini di Galup E adesso tutti insieme diremo Galup, che festival! Pronti? 1, 2, 3 Galup, che festival! Amici di Galup, che festival per oggi è tutto Appuntamento a domani Venga signorina, mi conduca a Sanremo Siamo già a Sanremo, però per lui è difficile Vada, spinga, spinga! Vada, spinga, 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 spinga Grazie a tutti